Sono Francesca e sono un'insegnante d'italiano all'Istituto di Cultura di Praga. Sono nata a Venezia ma ho anche geni siciliani e ho studiato filologia classica a Ca' Foscari. La mia prima esperienza come insegnante d'italiano è stata in Estonia, otto anni fa, ma il mio cuore è arrivato a Praga e qui sono rimasta. Insegno all'Istituto di Cultura Italiana perché è un mondo in cui i ciechi incontrano gli italiani e attraverso questo momento si riesce a comunicare, si riesce a condividere. Spero di vedervi presto all'Istituto e ciao a tutti!